Tu non possiedi i tuoi giochi, e sì, quando paghi quei 50, 60, 70, 80 euro per comprare il tuo nuovissimo titolo preferito, tu non stai comprando il gioco. Quella che stai acquisendo è una licenza di utilizzo, che sviluppatore e publisher ti forniscono per poter utilizzare il gioco, all'interno però di una licenza che ha delle regole piuttosto severe e principalmente orientate al benessere di chi il gioco l'ha sviluppato e poi rilasciato. E per quanto questa sia una discussione vecchia, di recente è tornato in auge un movimento che io personalmente trovo molto interessante e di cui ho sentito parlare per la prima volta appunto in questi giorni, che vorrebbe porre fine a questa situazione, o quantomeno portarla in discussione in Parlamento Europeo per riuscire a creare insomma una situazione più favorevole per noi consumatori. E non si parla soltanto di PC gaming, ma di tutto il gaming, che siate su Nintendo, Xbox, Playstation, sul PC o che semplicemente vogliate usare servizi di streaming come GeForce Now. Riguarda tutti quelli che acquistino un gioco o lo abbiano mai fatto, o lo faranno in futuro soprattutto. Vediamo un pochettino però di fare il punto della situazione. Se avete mai comprato un gioco, specialmente nel PC gaming, avrete notato che durante l'installazione vi vengono sottoposte delle regole che dovrete rispettare firmando un accordo, semplicemente andando avanti con l'installazione o aprendo il titolo stesso. Questo è un accordo generale che voi sottoscrivete attraverso l'utilizzo del titolo e attraverso il quale lo sviluppatore e il publisher si tutelano di possibili utilizzi che voi vogliate fare del loro software, come per esempio il fatto che il titolo vi venga distribuito in licenza, oppure che se magari in un contesto di multiplayer facciate cose che possano deneggiare gli altri giocatori o semplicemente la nomea del titolo, possiate essere bannati e vi possa essere revocata la licenza. Per quanto comunque un numero cospicuo di queste voci sia del tutto ragionevole, come appunto per esempio la tutela dei giocatori e dello sviluppatore verso i cheater o dell'utilizzo improprio del software stesso, effettivamente alcune sono a svantaggio del consumatore. Una tra queste è il fatto che tutti i giochi, una volta distribuiti, possano essere revocati, o perlomeno possa essere revocata la licenza che avete acquisito, in un qualsiasi momento per un qualsiasi motivo, semplicemente cessando il supporto. Questa è una grande problematica dell'era digitale, perché a differenza degli anni 90-2000 non si hanno più supporti fisici con accesso offline costante al titolo che abbiamo comprato. Molti giochi, anche solo per accedere al single player, oggi richiedono un accesso alla connessione. E per quanto questa cosa di per sé nel momento istantaneo non sia un problema, vuol dire più che altro che il titolo sia in quel momento correlato al server dello sviluppatore, e che nel momento in cui questo venga a mancare, effettivamente potrebbe mancare anche la possibilità di fare accesso al gioco, sia nella componente single player che nella componente multiplayer, ovviamente. Pertanto oggi voglio un pochettino creare del momentum e una discussione in Italia per una petizione molto importante che sta cercando di affrontare questo argomento. Si chiama Stop Killing Games, o come è stata rinominata in maniera un po' meno aggressiva, Stop Destroying Games. Basta distruggere i giochi. Questa petizione si pone come obiettivo di appunto creare una legge in Europa che tuteli i consumatori garantendo che effettivamente questi possano avere accesso al titolo illimitatamente una volta acquistato. Il tutto senza però danneggiare sviluppatore e distributore. Questo cosa vuol dire? Da una parte, come saprete, quando compriamo un gioco questo ha delle patch, uno sviluppo costante che risolve problemi o aggiunge novità, mette DLC o cose del genere che ci permettono di godere al meglio del nostro titolo. E soprattutto all'interno del titolo possiamo trovare cose sostanziali come skin, cosmetici, battle pass o anche cose come i DLC effettivi, espansioni che allarghino il mondo di gioco o la storia. Tutte queste cose appartengono al gioco e rimangono all'interno dello stesso fino a che ne abbiamo accesso. Stop Destroying Games si pone come obiettivo finale che al termine del supporto, anche di semplice manutenzione da parte dello sviluppatore, il giocatore possa continuare ad avere accesso al titolo illimitatamente e senza necessità di connettersi al server dello sviluppatore per fare eventuali accessi che potrebbero essere del tutto resi impossibili nel momento in cui appunto si stacchi il supporto. Per farvi un esempio, uno dei casi più ecclatanti è successo proprio quest'anno con il gioco The Crew di Ubisoft, che come tanti giochi di macchine sviluppati da Ubisoft effettivamente ha una componente di single player che è un incrocio con il multiplayer. Fondamentalmente voi giocate facendovi i fatti vostri, però siete perennemente online. Non esiste una modalità offline e per quanto alcuni dicano che i dataminer abbiano trovato il fatto che si potesse rendere il gioco offline, Ubisoft ha preferito togliere il supporto al titolo chiudendolo definitivamente. Il tutto però senza che Ubisoft mettesse in chiaro nettamente che al termine del supporto multiplayer anche la componente diciamo single player, che comunque era coesa alla parte multi, effettivamente sarebbe cessata. Cosa che ha lasciato molti consumatori perplessi, ma vi faccio anche un altro esempio. Quando ero su 360 uno dei miei giochini proprio di quelli secondari preferiti si chiamava Spartacus Legends, dico chiamava perché appunto è un'altra delle vittime di Ubisoft. Questo gioco è semplicemente un titolo in cui tu hai il tuo roster di gladiatori e fai delle lotte nell'arena, in componente multiplayer e single player. Io giocavo soltanto single player e mi piaceva tanto. Dopo aver mollato la 360 nel 2013 per passare al PC gaming, effettivamente qualche anno dopo ho ripreso la 360 per farmi una partitina a Spartacus Legends. E con mio grande grande dispiacere ho scoperto che il gioco è stato dismesso dal lato server di Ubisoft e che effettivamente la componente single player non fosse più raggiungibile nemmeno offline. E che quindi io a Spartacus Legends non ci potrò mai più giocare, nonostante a me piacesse. Non era un gioco perfetto, non era un gioco pazzesco, però a me piaceva e mi sarebbe piaciuto poterci giocare. Questo era un titolo gratuito e a differenza di quelli che hanno comprato The Crew non ci ho perso niente perché non avevo nemmeno comprato skin, DLC o cose del genere. Però di per sé è stato comunque un danno emotivo importante perché a me quel gioco piaceva tanto e non ci potrò giocare mai più nella mia vita. È veramente triste. Ora, scalate questa cosa su tutti i titoli che vi possano venire in mente e che facciano l'accesso online anche soltanto quando entrate al menu del single player. La situazione è abbastanza grave. Stop Destroying Games è attualmente una ECI, cioè una European Citizens Initiative. Questo vuol dire che è una petizione popolare di cittadini europei proposta da 7 cittadini di 7 diversi paesi membri dell'Unione Europea che ha superato almeno i criteri fondamentali per poter essere appunto votata poi dai cittadini. Un ECI non è una semplice petizione come potrebbe essere un change.org o cose del genere. Stiamo parlando di un qualcosa che se raggiungesse le firme necessarie verrebbe portato in Parlamento per una prima discussione plenaria di fronte a tutti i membri e poi effettivamente potrebbe essere modificata o accettata per essere discussa poi e votata come legge. Quello che serve perché un ECI passi alla discussione primaria è un complessivo di un milione di voti fatti da cittadini appartenenti all'Unione Europea di un qualsiasi stato membro. Oltre a questo serve che 7 stati membri abbiano superato una soglia minima imposta dall'Unione Europea di voti e in questo momento che sto registrando questo video l'ECI di Stop Destroying Games ha attualmente poco meno di 400.000 voti su un milione e 6 stati membri che hanno superato la soglia necessaria. Mentre l'Irlanda comunque è pericolosamente vicina a diventare la settima, l'Italia è molto molto indietro con meno del 40% dei voti necessari. Pertanto oggi mi voglio fare un po' portavoce, guidare questa carica che vorrebbe insomma vedere l'Italia un po' più protagonista di cose che ci appartengono perché alla fine in Italia i videogiocatori sono tanti, soprattutto nell'ambito console. Quello che serve è semplicemente di recuperare un documento di identità digitale, che può essere lo speed così come la carta di identità elettronica, andare sul sito dell'Unione Europea, che vi lascio il linkato in descrizione ovviamente, e votare l'ECI di Stop Destroying Games. Prima però vorrei ovviamente dirvi che non vi sto vendendo niente, nel senso non voglio che votate questa petizione qualora non ci crediate concretamente. Io personalmente ritengo che sia un ottimo progetto e vi spiego perché e anche qualche punto negativo che potrei voler vedere cambiato. Per me la cosa è abbastanza importante perché ci sono tanti titoli che verrebbero danneggiati da un'eventuale messa offline dei giochi. Vi faccio un esempio banale. Per quanto Blizzard sia abbastanza libera su questo argomento, io so che un giorno StarCraft 2 andrà offline. E ho paura di cosa possa succedere, perché in questo momento io non lo so quali possa essere la direzione di Blizzard nei confronti di StarCraft. Vi posso dire che i loro giochi comunque sono particolarmente longevi. StarCraft 2 banalmente ha ancora i server dopo 13 anni, World of Warcraft vivo dopo 20. Insomma ci sono ancora supporti lunghissimi e ci sono ancora patch che escono per determinate cose. Però banalmente se io voglio giocare offline a StarCraft 2 il mio account di Battle.net deve essere stato online negli ultimi 30 giorni. Ora, questa è sicuramente una soluzione che in un mondo moderno non è particolarmente onerosa, nel senso fare un login ogni 30 giorni non è assolutamente un problema. Ma mettiamo che venga messo offline e non si possano più raggiungere i server dopo quei 30 giorni? Se Blizzard non ha pensato a come risolvere questo problema, io un giorno potrei non poter giocare più a StarCraft 2. Ovviamente sto facendo solo un esempio, secondo me per StarCraft non ci saranno problemi, però è uno dei titoli a cui tengo di più e di quello di cui ho più paura della messa offline. Stop Destroying Games come iniziativa si pone l'obiettivo di rendere prima di tutto tutelati i giochi fino a renderli giocabili, quantomeno giocabili, in una componente offline single player. Quindi di per sé se il gioco l'avete comprato potrete continuare a giocarci. Mentre per la componente multiplayer vengono sottolineati alcuni aspetti fondamentali nel video del creatore. Stop Destroying Games non si prepone che publisher e sviluppatore debbano rilasciare il codice o cose come per esempio dare l'IP a terzi o altre. Semplicemente quello che vogliono è che si dia la possibilità di supportare legalmente un eventuale multiplayer in server privati. Questo può essere fatto con una componente P2P o con dei server che magari vengono stati pagati da terzi per riuscire effettivamente a tenere online un gruppo cospicuo di persone. Come banalmente succede anche adesso con i server di WoW, quelli alternativi, i server di Metin 2. Come banalmente è stato per anni con Minecraft oltretutto un caso molto particolare che giustifica come la resa possibile di ostare i propri server privati legalmente effettivamente abbia dato grande risalto al gioco e l'abbia reso uno dei titoli più popolari di sempre. Effettivamente se non ci fosse stata la componente di modding e di server privati raga diciamocelo chiaramente Minecraft non sarebbe mai decollato come ha fatto. Cioè diciamocelo chiaramente al tempo stesso un giorno per esempio WoW potrebbe andare offline, potrebbero eliminare determinate espansioni, potrebbero esserci delle complicazioni e questo dovrebbe lasciare carta bianca a chi voglia ostare un server a proprie spese di poter proseguire un eventuale supporto a titolo di Blizzard della cosa. Il tutto anche perché uno degli obiettivi principali di questa campagna è supportare illimitatamente quei titoli che abbiano delle microtransazioni o oggetti cosmetici come skin o cambi del personaggio o cose del genere, cavalcrature nel caso di WoW che la gente abbia comprato. Cioè c'è gente che su WoW ha speso decine di migliaia di euro in oggetti cosmetici e cose così e magari vorrebbe poterseli tenere a lungo termine. E questo è anche il motivo per cui effettivamente campagne del genere sono vitali, almeno fino a che non arriveremo ad una completezza del play to earn che permetta ai giocatori di trasferire i propri beni su cose come per esempio dei crypto wallet in maniera un pochettino simile a quelli che sono gli NFT. Però fino ad adesso a quello non ci siamo arrivati, quindi di per sé questa è una prima iniziativa. Diciamo che ci sono un insieme di aspetti positivi, fondamentalmente per il consumatore tutti positivi, mentre per gli sviluppatori alla fine i downside non sarebbero poi così grandi. La legge non sarebbe retroattiva, quindi di per sé i titoli già usciti non sarebbero coinvolti, ma in futuro sarebbe necessario per loro, se distribuiti in Europa, semplicemente di rendere lecito il fatto che una persona, a conclusione del supporto, possa continuare a giocare al suo gioco preferito. A me non sembra sbagliato in nessun modo. Prima di tutto il creatore dell'iniziativa, Ross, non è un avvocato e per come è scritta Leci, per quanto sia stata revisionata effettivamente, non è, diciamo, definitiva. Ma questo è normale. Il canale Pirate Software, che si occupa appunto di discutere argomenti molto simili, ha portato su alcune delle possibili debolezze. Siccome non mi va di ripetere le sue parole esattamente, secondo me, se masticate inglese, sarebbe giusto andare a vedere il suo video per farvi un'opinione più completa. Così come guardare anche quello di Luis Rossman, uno dei più grandi attivisti per l'argomento dei diritti del consumatore in ambito digitale e pratico. Effettivamente entrambi, secondo me, hanno tirato fuori dei buoni punti, però al tempo stesso io di mio, avendo un pochettino studiato legge europea per la mia laurea in antropologia, ma nei minimi termini, vi posso dire più che altro che Leci effettivamente non è la legge definitiva. Cioè, se andate a vedere effettivamente quello che è il processo di approvazione e di progresso del Leci, qualora si raggiungessero le firme, ci saranno incontri con i parlamentari per riuscire a capire un pochettino la posizione, migliorarla e appunto trovare del supporto da parte di eventuali figure politiche di rilievo. Ci sarà una discussione della legge per riuscire a trovare i punti deboli e forti, una revisione dal punto di vista legale, perché comunque effettivamente le leggi sono molte per quanto riguarda i diritti d'autore e cose del genere. Insomma, non è una roba che domani votiamo e tra tre giorni entra in vigore, semplicemente è una proposta ed è molto importante farle. Per me, più che altro, anche se fallisse, effettivamente potrebbe portare A, attenzione mediatica sull'argomento, il che è comunque positivo, perché sensibilizza il pubblico e soprattutto lo informa sul fatto che non possiedano niente di quello che hanno comprato. B, effettivamente potrebbe creare dei responsi diversi, cioè potrebbe essere modificata la legge, ma potrebbe creare un qualcosa di utile, come banalmente sta succedendo con i diritti di riparazione autonoma. Ancora non siamo lì, però effettivamente negli ultimi anni le cose stanno migliorando e si ha sempre più informazioni al riguardo, tant'è che brand come i Fixit fanno banalmente un teardown di tutti i prodotti Apple che escono per aiutare i consumatori a riparare i propri prodotti. Ancora non è lecito ripararli al 100%, ma ci stiamo arrivando ragazzi. Comunque c'è una discussione che sta dando fastidio ad uno dei più grandi colossi dell'industria tech della storia e questo potrebbe succedere anche nell'ambito dei videogiochi, semplicemente partendo da questa iniziativa. E infine ragazzi, semplicemente anche un modo per avvicinarci come community. Se abbiamo degli obiettivi comuni, che non siano semplicemente recensire hardware e parlare male di giochi ottimizzati con i piedi, a lungo termine possiamo creare qualcosa di grande e fare bene appunto a quello che è il contesto in cui ci crogioliamo ogni giorno e chiamiamo e che effettivamente ci dà qualcosa, una grande soddisfazione. Ci dobbiamo tutelare, dobbiamo farlo noi adulti anche per quelli più piccoli. Ed effettivamente tutti quanti ne potremmo giovare. Qualsiasi sia il risultato ci sarà comunque un piccolo, anche microscopico movimento, una fessura, una crepa che si crea nel muro della completa negligenza che c'è nei confronti di noi consumatori. E questa è una cosa importante secondo me. Ad ogni modo, io ragazzi vi lascerò tutto quanto quello che vi serve è linkato, compresi i video di chi non è d'accordo, perché voglio che vi facciate un'opinione il più completa possibile. Personalmente sono a favore della legge e vi invito come canale a firmarla. Fatevi la vostra opinione, sono sicuro che effettivamente ci siano ancora dei punti che possano essere riveduti, discussi, riscritti in maniera più corretta, però di per sé trovo l'iniziativa esemplare e soprattutto non le solita petizioni su change.org che non serve a niente, ma un vero e proprio primo passo verso qualcosa che potrebbe essere una discussione parlamentare e successivamente una legge in Europa. E qualcosa che effettivamente faccia da capofila per aprire un nuovo modo di vedere videogiochi nel futuro. Un'altra cosa che vi dico ragazzi è di portare l'attenzione a tutte le persone che conosciate che possano effettivamente avere una rilevanza nel portare firme, perché vorrei che l'Italia arrivasse alla sua soglia minima, che vi dico, sono soltanto altre 30.000 firme e niente. Quindi se siete fan di uno streamer cercate di discuterne con lui, se siete moderatori di una chat di Twitch abbastanza importante chiedete al vostro streamer di discuterne in live, se siete degli streamer, degli youtuber, dei creator, degli influencer, tiktoker, per qualsiasi cosa siate, in ambito gaming e non, discutetene col vostro pubblico, portateli a firmare. Ci sono molte cose che possono essere fatte e l'Italia potrebbe essere una delle capofila assieme alla Germania e agli altri paesi che hanno già raggiunto la soglia minima e l'abbiano superata abbondantemente per essere un qualcosa di effettivamente fondamentale per un cambiamento. Portiamo l'Italia a fare qualcosa di buono per la tecnologia una volta tanto. Detto questo ragazzi per questo video è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di esservi stato utile, noi ci vediamo nel prossimo video vi stai su Morden Tech. Sausa!